A Caffè Scorretta alle 17.12 minuti la musica di Lelio Buntu E' la maledetta solitudine, e' la maledetta solitudine che mi rompe i coglioni E' la maledetta solitudine che mi fa cacciare in situazioni in cui a dire da verità non c'entro nulla Questo stra maledetto io occidentale, più da colpa di questo stra maledetto io occidentale E' la maledetta solitudine, e' la maledetta solitudine che mi rompe i coglioni Non riesco a stare lontano dal flusso delle cose, lì dove si compra e si vende Lì dove ci si compra e ci si vende E' la maledetta solitudine, e' la maledetta solitudine che mi rompe i coglioni Prendiamo adesso sono solo le 10, dove vado, li vedo Io vi vorrei tutti qui pronti a disposizione Come più pazienti di peluche qui nel silenzio del mio letto Come piglie da lanciare, come joystick da consumare, come siti web da consultare E' la maledetta solitudine, e' la maledetta solitudine che mi rompe i coglioni Prendiamo adesso sono solo le 10, dove vado, li vedo E' la maledetta solitudine che mi rompe i coglioni Guardi tutti qui pronti a disposizione come un mannese di peluche qui nel silenzio del mio letto ... ... ... ... web da consultare come Joystick da consumare come attenti di peluche il silenzio da più orato come avventi di peluche il silenzio di peluche la culture da lanciare come sleevelessi come ativi da lanciare Joystick da consumare come Joystick da consumare come sì web da consultare tutti web da consultare come si fa e usci nel silenzio del coraggio usci nel silenzio di un erbie cosa lanciare? come figlia da lanciare? manca le sfite a consumare manca le sfite a consumare si gli vanno a consultare dovrebbero ammazzare dovrebbero ammazzare potrebbero ammazzare Dovrete l'ammazzare, dovrete l'ammazzare, dovrete l'ammazzare Lady Ubuntu live a caffè scorretto La musica di Lady Ubuntu ci piace particolarmente, è la maledetta solitudine Il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, l'album si chiama Piuttosto che incontrarvi farei Bungie Jumping Per chi non li avesse sentiti prima, i due pezzi ci danno già la misura della musica che fanno i Lady Ubuntu Almeno un bel po' di intuizioni ci arrivano e secondo me arrivano anche a chi è in ascolto